Oggi si chiude un ITER che è partito da ottobre dell'anno scorso, un ITER fortemente voluto dall'amministrazione comunale, dal sottoscritto, perché volevamo dare un cambio di marcia. Questo va nell'ottica di rivalorizzare il nostro territorio. Ci sono tanti territori che sono ricchi di acqua, popoli ricchissima di acqua. Ci sono altrettanti territori ricchi di acqua solfure, popoli alla fortuna di essere ricchi di entrambi i tipi di acqua e quindi noi vogliamo sfruttare questa nostra tipicità. Ripeto oggi sono felicissimo perché c'è stato tanto lavoro dietro. Abbiamo fatto una consultazione elettorale il 7 maggio e anche qui ci sono stati numeri che non mi aspettavo, quindi ringrazio tutta la cittadinanza.